A Torre del Greco sono stati registrati negli ultimi due giorni 6 soggetti deceduti che avevano contratto il Covid-19, registrati anche 33 nuovi casi di positività al virus e 48 guarigioni, attestato inoltre il passaggio di un soggetto positivo dall'isolamento domiciliare al regime ospedaliero. Muta dunque il bilancio dei contagi da Covid-19 a Torre del Greco, 23 soggetti positivi ricoverati, 241 in isolamento domiciliare, 2314 guariti e 74 deceduti. Nel giorno 5 gennaio sono stati comunicati 29 casi di contagio da Covid-19 a Torre annunziata, accertate anche 6 guarigioni e 3 decessi. Sono 136 cittadini attualmente positivi, 128 posti in isolamento domiciliare e 8 ricoverati. Sala 1433 il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus è stato rannunziato dall'inizio dell'emergenza sanitaria, i cui 1266 guarite e 31 decedute.